Eh ragazzi, cosa non è andato in questi europei? Beh, sono successe tante cose, il nostro basket non era un basket fatto di ritmo, non era un basket fatto di conclusioni cercate, erano tiri forzati, spesso in isolamento, erano delle azioni offensive claudicanti, si faticava a trovare il flusso dell'azione, spaziatura non sempre perfette, però coglioni enormi, talento, voglia, grinta. Secondo me il nostro grosso problema è l'allenatore, oltre a problemi di base che sono attitudine difensiva, fatichiamo a difendere la zona, ci partiamo i tagli, eccetera, ci manca un allenatore, il nostro allenatore aveva un playbook offensivo imbarazzante, come detto probabilmente siamo quelli che più utilizzano le situazioni di isolamento all'interno di una partita, e il che ci deve far riflettere, non abbiamo mai visto costruire un gioco offensivo, vero, abbiamo sempre solo visto la palla entrare in qualche maniera nel canestro e siamo arrivati fino lì, contro la Lituania che poi ci ha fatto a fette perché avevano un'organizzazione di gioco. Ma io penso che la nostra nazionale per fare veramente un passo in avanti debba cambiare allenatore, perché Pialigiani mi spiace, ma così non va. E che dire d'altro? Scavino gente. Grazie a tutti.